Il 2023 è stato un anno eccezionale, così il presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirreno centrale, Andrea Annunziata, ha commentato il bilancio dell'anno che ha fatto registrare, nei tre porti gestiti dalla sua autorità, Salerno, Napoli e Castellammare di Stabia, un record storico di traffico dei passeggeri. Nel 2023 sulle banchine dei tre porti sono transitate 8,36 milioni di persone, in crescita del 9,1% rispetto al 2022. È il numero più alto mai registrato. 1,73 milioni sono croceristi, in crescita del 43,2% rispetto al 2022. La crescita dei passeggeri è stata da record e il traffico generale tiene, nonostante la congiuntura economica internazionale, ha fatto notare il presidente Annunziata. Risultati frutto del buon lavoro svolto in sinergia dall'autorità di sistema portuale, con gli imprenditori, i lavoratori, il tessuto economico. Ma non dobbiamo adagiarci sugli allori, ha fatto notare il presidente. I prossimi anni saranno infatti un po' particolari e fondamentali per ultimare gli investimenti europei del PNRR, che permetteranno ai porti di sviluppare le infrastrutture, aumentando la produttività, tutelando l'ambiente, garantendo la sicurezza. Sulla carta c'è un totale di oltre 600 milioni di euro, senza contare fondi regionali e nazionali complementari, risorse per ammodernare e mantenere competitive le infrastrutture portuali della campagna. Il bilancio dell'autorità di sistema portuale è stato approvato lo scorso 30 aprile, crescono il gettito delle tasse portuali e l'incasso dei canoni e dei maniali. Il conto economico registra un utile netto di 5 milioni e si registra una consistenza finale di cassa di 448 milioni di euro.